ciao a tutti amici fiusini come state spero tutto bene oggi andremo a fare un video slime perché ho acquistato un nuovo slime eccolo qua un nuovo slime sarà un chilo non lo so quanto sia comunque lo apriremo insieme e sentiremo il suono che fa apriamolo ok ok il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info come vedete è uno slime Aquarius e dentro ci sono delle piccole creature che poi andremo a vedere, ad immergere le nostre dita e a vedere ragazzi è veramente molto 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 profumato ok 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 adesso andremo ad estrarre le creature che si trovano all'interno di questo slime vediamo abbiamo oddio una piantina che adesso l'andremo a liberare da lo slime da lo slime ok 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 andiamo a vedere cosa c'è dentro adesso andiamo ah c'è una ragosta andiamo a raccattare la ragosta ok ok ecco 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 la ragosta quanto è carina questa ragosta questa ragosta è ecco 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 e adesso andiamo a prendere l'altro l'altro ok questo qua cos'è? un delfino l'altro l'altro è ecco 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 c pancake ok, adesso andremo a sentire il nostro slime che rumore va ne prendo un pezzettino perchè ce n'è un sacco e allora andiamo a prenderne un pezzettino guardate com'è bello rosa ragazzi è proprio un bel colore e andiamo a sentire il suono è meraviglioso ragazzi è proprio meraviglioso e ora andiamo a prenderne un pezzettino 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 e ora andiamo a prenderne anche a prenderne un pezzettino e ora andiamo a prenderne un pezzettino e��는 un pezzettino e consigli c'è cambzugato questo sullizentino 메zzettino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti